Ahahahah! Quei mostri di pietra! Mi hanno bruciato la casa! Ahahahah! Sono proprio triste! Ahahahah! Il fatto è che sono una Iana Riddens! Ahahahah! Sbarazzati di quei mostri di pietra! Ti prego, sbarazzati di quei mostri di pietra Oh, la vita è dura, non ho amici, non ho casa, non ho cibo Forse, forse dovrei cucinarmi questo uovo di drago Oh, povera me Grazie, prendi questo uovo di drago, io non posso tenerlo Quei mostri hanno distrutto la casa in cui custodivo i miei averi Sono disperata